Centinaia di bambini ucraini vengono trasferiti in Russia dai territori occupati dell'Ucraina orientale. Il Cremlino dice che li stanno salvando, Kiev sostiene che sia in corso un genocidio. Un'ampia indagine della rete di giornalismo investigativo EBU ha esaminato dozzine di video provenienti da organi di stampa ufficiali russi e ha intervistato autorità ucraina ucraine, famiglie e ONG internazionali. I risultati sono agghiaccianti. Dall'inizio della guerra, centinaia di bambini delle aree occupate dell'Ucraina sono stati portati con la forza in Russia per essere collocati in famiglie o istituzioni statali. Oppure devono ancora tornare dai campi estivi o dalle cure mediche essenziali. Molti hanno ricevuto passaporti russi durante le cerimonie di naturalizzazione. Alcuni sono scomparsi del tutto. Il governo ucraino ha creato un sito web, Children of War, per trovare i bambini scomparsi. Questo non è altro che il genocidio del popolo ucraino attraverso i nostri bambini, afferma Daria Erasimchuk, commissario per i diritti dei bambini e la riabilitazione per l'Ucraina. Li rapiscono, cambiano cittadinanza, li danno in adozione sotto tutela, commettono violenze sessuali e altri reati. Secondo i funzionari ucraini, circa 14.000 bambini ucraini sono stati trasferiti in Russia. I russi la chiamano evacuazione, dicendo che il trasferimento dei bambini nella relativa sicurezza della Russia li salva dai pericoli quotidiani di vivere in una zona di guerra. Prima della guerra c'erano circa 100.000 bambini in case di cura per motivi tra cui l'essere orfani, la mancanza di un genitore idoneo o la povertà, bambini vulnerabili inclini a essere trasferiti non accompagnati. Ora molte di questi istituti sono vuoti. In alcuni casi i bambini sono stati prelevati da funzionari ucraini per prepararsi a un'invasione, ma la rete investigativa ha trovato prove che indicano anche raid delle autorità russe. La Russia ha modificato il suo quadro giuridico per poter accogliere l'afflusso di bambini. Nel maggio 2022, Putin ha istituito un quadro giuridico per accelerare e semplificare il processo di concessione della cittadinanza russa e il rilascio di passaporti ai bambini ucraini senza cure parentali, un quadro che rende molto più difficile per i loro parenti sopravvissuti riaverli. Già a luglio venivano distribuiti passaporti russi ai bambini, azioni che sono state denunciate dagli UNHCR. Da allora i bambini ucraini sono stati mostrati nei video sui social media e sulla TV di Stato mentre arrivavano nelle città russe. Maria L. Vabelova, commissario di Putin per i diritti dei bambini, ha dichiarato durante una cerimonia di naturalizzazione a luglio, quando sono stati consegnati nuovi passaporti russi-rossi. Bisogna vedere come sono cambiati in appena un paio di mesi, gioiosi, brillante, sorridente, ora che i bambini sono diventati cittadini russi. La tutela temporanea può diventare permanente. Grazie. 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 Grazie.